Gentili telespettatori, buona giornata. Attenzione, in questi giorni l'invidia, il livore e il rancore dei personaggi di sinistra verso il capo del governo per aver liberato Zacchi, perché guardate che è un successo internazionale, sono arrivati complimenti pure dagli Stati Uniti, l'Europa dice beh dai adesso riusciamo ad avvicinare questi paesi, quindi il prestigio che la liberazione porta la Meloni è un prestigio assoluto e a sinistra l'odio è assoluto e così arriviamo anche a dire che la Meloni è erede del dittatore degli anni venti in Italia, è la sua erede. Chi lo dice? Adesso vi racconto. A fare un parallelismo tra poi anche Giorgia Meloni e Marina Berlusconi, che poi lasciatela stare Marina Berlusconi, lasciatela fare la presidente aziendale, che faccia il suo... non tiratela in mezzo in politica, che la vogliono tirare in mezzo in politica, a sinistra vogliono che ci sia qualcun altro da aggredire politicamente, quindi Marina Berlusconi sappia che un eventuale suo avvicinamento alla politica la darebbe in pasto a questi personaggi cupi, oscuri e sinistri, che cercherebbero di infangarla su tutto, andrebbero a fare la radiografia di tutta la sua vita per trovare qualsiasi cosa per spiattellarla davanti a tutti. Comunque la seconda primogenita di Silvio Berlusconi combatte per preservare la memoria dagli attacchi postumi dei magistrati, perché siamo agli attacchi postumi, l'avreste mai immaginato, con la sua scomparsa si chiude tutto, col cavolo, vogliono cercare di dimostrare che Berlusconi è il mandante dei fatti di mafia del 92-93, Borsellino, Falcone, Firenze, vogliono dire che è stato lui praticamente, vogliono arrivare a dire che è stato lui per tentare di distruggere il centrodestra e far capire agli italiani che non si può votare un partito e un'area politica di cui sono i capi della mafia. Questo si vuol dire che Berlusconi era il capo della mafia. Capite? Non riesco a vincere alle urne, allora dico che quello là era il capo della mafia, così magari non votano più centrodestra. Siamo arrivanti veramente all'assurdo. Chi fa un parallelismo tra Meloni e Berlusconi è proprio con Citta De Gregorio, che parla di due eredi designate, donne al potere, donne potenti, le donne più potenti d'Italia sono Giorgia Meloni e Marina Berlusconi, non solo d'Italia, credo che a livello europeo si erano numero uno e numero due. E così la giornalista compie l'operazione di accostare e tira ancora in ballo il fascismo. Meloni e Marina Berlusconi sono le eredi designate. Scrive l'ex direttrice dell'unità, oggi conduttrice sulla Sette, e scrive poi su Repubblica. Bel giornale Repubblica. Meloni e Berlusconi sono le eredi di due ventenni che hanno fatto la storia di questo paese. E così, Giorgia in politica è erede diretta del fascismo storico, di lui, del crapum, no? Quello senza capelli. Dice perché non lo nomini mai? C'è il politicamente corretto, non posso farlo. È chiaro? È chiaro perché parlo sempre del dittatore senza mai dire nome, cognome o altri epiteti del tempo? Perché tu parli sempre del dittatore e non dici mai? Perché? 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 Io le piacevo, cantava, lei mi amava, mi odiava, ma era contro di me. Va bene. Quindi, secondo la giornalista, la Giorgia, perché dici là? Non si mette l'articolo davanti ai nomi. In Piemonte si utilizza dire il Marco o la Giorgia. È un'eccezione grammaticale che si utilizza in Piemonte. Quindi a me piace dire la Giorgia o il Marco. Sta bene? E se non sta bene, va bene lo stesso. Quindi la Giorgia è l'erede diretta di lui. È il Crapun, il Pelato, è l'erede diretta. Vabbè. E i suoi colonnelli, i suoi gerarchi, i ministri, sono lì a ricordarcelo ogni giorno. Ecco. Mentre Marina è l'erede del secondo ventennio, quello, il ventennio berlusconiano o il trentennio, perché insomma, più che un ventennio direi un trentennio. Il ventennio generato dagli anni dei magnifici anni Ottanta. L'incarnazione dello spirito del tempo che fa affari con chi c'è da fare affari. L'importante è il fatturato. Non so se capite le parole della giornalista. Gli anni Ottanta era il tempo degli affari. E fai affari con chi c'è da fare affari. L'importante è il fatturato. Quindi il fatturato prima di tutto e poi tu fai accordi con chiunque. Abbiamo capito a cosa si riferisce come i magistrati che cercano il mandante occulto. De Gregorio sottolinea che è maschilista e retrogrado il racconto delle gemelle diverse. Sono tutte e due bionde, tutte e due fisicamente simili, la postura. Naturalmente chi disprezza compra. A sinistra sono invidiosissimi che le due donne più potenti d'Italia e d'Europa siano proprio il capo del governo e Marina Berlusconi. Eh sì, loro non hanno donne così potenti, ma manco abbiamo la Schlein che parla, dice come se fosse Antanius Billy Goode agli antipodi, con i fuochi fatui, pulitina. Ecco, insomma, a sinistra abbiamo una che parla come il conte Mascetti in Amici Miei, come se fosse Antani. A destra abbiamo le donne più potenti d'Europa, donne con un carattere di quelli che te lo raccomando. Io penso che non è facilissimo andare d'accordo né con Marina Berlusconi né con Giorgia Meloni. Credo che non sia facilissimo andare d'accordo. Magari mi sbaglio, magari su Giorgia Meloni può essere che mi sbaglio perché vedo che è attorniata da tanti fedelissimi, la sorella, il cognato. Insomma, magari mi sbaglio su Giorgia Meloni. Su Marina Berlusconi la vedo una di quelle che sbaglia a parlare in azienda e ti distrugge. Ho questa impressione, poi magari è solo un'impressione, magari è una donna buonissima anche in azienda, chi lo sa. Vabbè, comunque, questo è il giornalismo di oggi, le due eredi del ventennio, due ventenni diversi. Che brutta che è l'invidia, è concita brutta l'invidia, mamma mia. Ma chi disprezza compra. Attenzione che chi parla male è perché ammira, ammira e ammira. Guardate che concita, ammira tantissimo la Meloni e Marina Berlusconi, solo che deve, deve invidiare perché è dall'altra parte. Guardate che l'invidia è la stessa cosa dell'amore. Sono due sentimenti molto simili. Da una parte ami e dall'altra parte invidi perché non puoi amare. Avete visto che filosofo che sono? Eh? Eh già, grazie a tutto e arrivederci.